Da domani, mercoledì, 7 aprile, riapriranno le scuole in Abruzzo, riaccoglieranno le scuole abruzzesi tutti gli studenti che ritorneranno in presenza fino alla prima media. Dalla seconda media in su e dunque fino anche alle superiori sarà prevista invece la didattica in presenza e a distanza alternata al 50%. Ma di tutto questo vorremmo parlare proprio con la nostra collega Marina Moretti che vediamo già pronta in diretta. Marina, buongiorno a te. Buongiorno Anna, buongiorno a te. Come hai detto giustamente, ripresa delle attività didattiche anche per, oltre che per le altre scuole, seconde, terze e superiori ma al 50%. Vuol dire classi meno piene, turni anche differenziati in qualche caso di entrata e di uscita e però un grande giorno tornare a scuola perché non l'avremo mai pensato ma gli studenti aspettavano invece il momento del rientro con gioia, con contentezza anche per rivedere i compagni, per avere dei rapporti un po' più normali. Come si stanno organizzando le scuole per questa giornata di domani? Oggi siamo venuti qui all'istituto Acerbo e abbiamo chiesto al preside Carlo Di Michele appunto come ci si sta riorganizzando perché poi la scuola in presenza al 50% è un'esperienza già vissuta e quindi c'è già questo bagaglio. Allora se sei d'accordo Anna, dimmi tu se posso mandare l'intervista? Certamente Marina, possiamo sentire l'intervista che hai realizzato questa mattina, poi ritorneremo anche per qualche commento appunto su quanto ascolteremo. Perfetto, allora via al preside, al direttore, al dirigente scolastico dell'istituto Acerbo. Quindi si rientrerà al 50% con due turni di ingresso proprio per favorire non solo l'ingresso scaglionato a scuola ma anche la mobilità, quindi evitare gli affollamenti sui mezzi pubblici. Abbiamo fatto una verifica di tutte le misure che abbiamo già adottato, quindi tutto in ordine, quindi distanziamento tra i banchi, mascherine già predisposte, sanificazione eccetera. Quindi siamo pronti per riaccogliere domani mattina con grande piacere il nostro primo 50% dei ragazzi. Perché la scuola in presenza è comunque un'altra cosa? Se ne sono accorti persino i ragazzi ai quali sembra, da quello che si legge in giro, che manchi addirittura la scuola. Forse non l'avremmo pensato, ma sicuramente la scuola non è solo le ore di lezione, è la socializzazione, è lo sport, sono le attività, il teatro, il modo anche di relazionare. Per tornarsi al mondo in un piccolo mondo, che è quello della scuola. Secondo lei quanto questo avrà influito poi quando si potranno fare i conti, diciamo così, di questa pandemia? Quello di cui tutti ci siamo resi conto di più che in passato è dell'importanza della scuola. La scuola non è soltanto un luogo, diciamo così, degli apprendimenti, non si cura soltanto l'aspetto cognitivo dei ragazzi. La scuola è anche socialità, ma c'è anche una conoscenza nella socialità, nel senso che è una continua scoperta del mondo, dei rapporti delle persone. Quindi fondamentalmente la fisicità della presenza è un valore assolutamente insostituibile. Quindi da questo punto di vista, se in questi mesi abbiamo potuto comunque garantire un minimo di relazione, perché nonostante i limiti degli schermi, comunque questa relazione è stata mantenuta ed è stata mantenuta viva, comunque si è andati avanti con le attività didattiche, ma la presenza sicuramente aiuta moltissimo proprio per quel complesso di acquisizioni che non sono soltanto cognitive, ripeto, ma fanno parte proprio della crescita umana complessiva dei ragazzi. Da questo punto di vista devo dire che un aspetto molto importante è il fatto che i ragazzi hanno il desiderio di conoscere il mondo. In questi mesi il mondo molto spesso si è ristretto alla loro cameretta, alle quattro mura di casa. Quindi loro ancora di più sentono il peso di questa difficoltà e da questo punto di vista questo desiderio di tornare a scuola è dentro questo grande desiderio di riaprirsi a tutta la realtà. Ultima domanda. Anche i docenti si sono dovuti adattare al nuovo mezzo. Lei mi diceva poco fa c'è chi lo ha fatto, naturalmente seguendo uno schema didattico di programma scolastico e chi anche ha tenuto conto proprio del mezzo, quindi ha adattato il linguaggio al fatto che non si era in presenza. È stato complesso? Devo dire di sì, perché gli insegnanti si sono messi nella gran parte in discussione, nel senso che tutti abbiamo capito già da marzo dello scorso anno che non si poteva più fare didattica a distanza così come la si faceva in presenza. Certamente ogni insegnante ha reagito secondo le proprie capacità, temperamento, età eccetera e quindi i risultati sono stati molto vari. Ma io devo dire dal mio osservatorio, non soltanto della nostra scuola ma anche di altre scuole, ma io guardando gli insegnanti della Cerbo, devo dire che tutti si sono messi in discussione, hanno cercato delle strade nuove di migliorare proprio questo aspetto, cioè di fare i conti con le tecnologie per capire come poter incontrare i ragazzi, perché la vera questione della scuola è che ci sia una proposta, non soltanto culturale, ma che la scuola ha proprio la possibilità di incontri, incontri di persone. Quindi la didattica è in funzione di questa relazione e non fine a se stessa. E questo è il servizio, appunto le interviste che ha realizzato la collega Marina Moretti, ascoltando proprio il dirigente scolastico dell'Istituto Cerbo di Pescara, Michele Di Carlo, poi naturalmente domani parleremo anche direttamente del ritorno in classe con servizi sicuramente anche più dettagliati, ascoltando magari anche la voce degli studenti. Marina, se riusciremo anche a sentire appunto direttamente dalle parole degli studenti questa emozione di rientrare in classe dopo tanto tempo. Sì Anna, permettimi di correggerti perché è un errore che ho fatto anch'io. Carlo Di Michele, è facile invertire. Il preside Di Michele infatti ha toccato anche dei punti particolari, diciamo così, che non sono solo quelli didattici, perché la scuola è importante sotto il profilo anche psicopedagogico direi quasi e quindi è importante. Domani proveremo ad andare in un altro istituto sugli studenti, non lo so, vediamo, anche perché molti sono minorenni, sicuramente avremo un altro preside o un'altra preside, quindi a domani.